Buon pomeriggio a tutti cari amici e buon pranzo perché ci avviciniamo al momento del pranzo. Bene, il motivo per cui oggi questo nuovo video parlo della mia prima intervista, cioè parlo, non vi posso spoilerare niente, non vi devo spoilerare niente, ma ieri ho fatto la mia prima intervista per ANG Radio Staffetta Trani che sarà disponibile su Spotify, su Springer e ovviamente anche sul blog di Radio Staffetta Trani. Mi sono emozionato davvero tanto, ho sentito forte quella mia voglia di mettermi in gioco, di... voi dovete sapere cari amici io, vabbè, mi definisco così scherzosamente un giornalista mancato, nel senso che ho fatto un corso a bar di giornalismo grazie ad una mia amica, a una certificazione, magari sì non sono pubblicista, però comunque... perché fare un'intervista, anche se io non sono effettivamente un giornalista, ma è un lavoro di quel calibro. Poi certo l'argomento era abbastanza conosciuto da me, ma molto contento, ricordo, tra due giorni disponibile, credo, tra il pomeriggio e la sera su Springer, Spotify, mi raccomando, sentitela, seguite il mio podcast, anzi seguite tutti i podcast di Radio Staffetta, perché noi ci mettiamo tutta la nostra buona volontà, il nostro impegno, la nostra grinta, la nostra cazzina. Voi, se vi va, se volete, se ci volete bene, ci dovete sostenere, almeno ascoltando i nostri podcast, che poi non sono così lunghi, è, quindi io vi saluto, cari amici, oggi voglio essere abbastanza breve, però la radio è sempre attiva, siamo in vermento, perché di giorno in giorno si registrano podcast, non siamo, come si dice, in piedi come dei citrolli, ma ci organizziamo, quindi dal vostro caro Nicola De Lucia è tutto, seguite Radio Staffetta Trani, il Springer, Spotify, il blog Spot e il resto. Vi ringrazio per il vostro sostegno, alla prossima, ciao!